Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Ancora senza esito le ricerche della donna scomparsa di casa a Fermignano i sommozzatori hanno scandagliato anche un tratto del fiume Metauro Aveva nascosto la droga sotto il tappetino dell'auto arrestato dai carabinieri di Marotta, un 27enne fanese Matteo Salvini nelle Marche, sulla sperimentazione dell'app Immuni dice io non scarico nulla, mentre sul candidato il nome arriverà in settimana Una festa in piazza a 20 settembre con tutti gli studenti per festeggiare l'ultimo giorno di scuola è la proposta innovativa del sindaco di Fanno Massimo Serra Minardi presenta una interrogazione urgente in regione per coordinare con Anasi lavori stradali che rischiano di mettere in ulteriore difficoltà il settore turismo Tra poco in diretta su Fanno TV ci sarà Primo Cittadino ospite di questa sera il sindaco di Colli al Metauro Stefano Aguzzi Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Continuano senza sosta le ricerche della 54enne fermignanese che da sabato mattina manca da casa Oggi sono intervenuti e hanno scandagliato un tratto del fiume Metauro anche i sommozzatori provenienti da Bologna In tanti la stanno cercando incessantemente da 48 ore Renata Serafini 54 anni di Fermignano ma di lei ancora nessuna traccia Si è allontanata dall'abitazione dove vive assieme alla sorella e alla sua famiglia nella mattinata di sabato scorso dicendo di voler andare a trovare un parente che si trova nella zona di San Silvestro Ma dal conoscente non è mai arrivata Ha fatto perdere le sue tracce dopo aver chiesto un passaggio in auto facendo l'autostop E' stata lasciata in questo punto sabato mattina la donna e le sue tracce poi sono scomparse in fondo a questa strada L'ultima traccia di lei è alle 19.30 di sabato sera in un ponticello in fondo a questa strada L'allarme è stato dato alle forze dell'ordine dai suoi familiari solo domenica mattina ed è subito scattata la macchina delle ricerche con un notevole dispiego di uomini e mezzi In località San Silvestro dove ci troviamo in questo momento è stato istituito il punto di coordinamento interforze da dove partono le ricerche per la donna La donna che è scomparsa già dalla giornata di sabato Le ricerche sono partite domenica mattina e stanno andando avanti a oltranza Stiamo monitorando tutto il territorio in cui abbiamo avuto l'ultimo riscontro di avvistamento Stiamo monitorando adesso un fiume tramite i sommozzatori del comando di Ancona Col personale dei vigili fuoco del comando di Pesaro di Urbino stiamo battendo le zone boschive Tutti i sentieri, tutti i casolari abbandonati o legnaie dove questa signora possa aver passato la seconda notte all'aperto I sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna hanno setacciato palmo a palmo il tratto di fiume a monte e a valle del Ponticello dove alle 19 di sabato sera è stata avvistata per l'ultima volta da testimoni Ma di lei nessuna traccia, le acque basse e il tratto fluviale privo di ostacoli naturali non ha lasciato dubbi ai sommozzatori Renata è da cercare altrove Siamo in una zona in aperta campagna, gli spazi sono molto ampi, le tracce sono molto poche quindi di conseguenza abbiamo dovuto impiegare tantissimo personale è stato spiegato anche un elicottero, è stato nel pomeriggio di ieri appunto per cercare anche di tracciare un pochino, di restringere il campo della ricerca oltre dei cani molecolari, i cani sia della Croce Rossa sia dei vigili del fuoco che sono stati piegati in tutto il servizio Sui social abbiamo fatto un tam-tam nella possibilità di poter avere delle tracce o comunque sia degli avvistamenti di Renata e anche nel circondario che comunque chiunque abbia una possibile informazione una possibile magari vista della persona appunto di Renata e contatti immediatamente il 112 oppure 115 che stanno coordinando appunto i soccorsi insieme alla prefettura e insieme a noi per poter avere una traccia, quindi un'ulteriore possibilità speriamo di poter ritrovare e riabbracciare Renata il prima possibile Dopo l'infruttuosa giornata di oggi le ricerche continuano con un cambio di strategia si procederà a Pettine grazie all'arrivo di molti volontari di protezione civile da tutti i comuni limitrofi e l'utilizzo di cani da recupero allargando così il perimetro di territorio da controllare La 54enne che soffre da tempo di disturbi psichici ma è seguita dal punto di vista sanitario si era già resa protagonista di un episodio di allontanamento dalla sua abitazione circa un anno fa I ricercatori nelle prossime ore per rintracciarla puntano anche sulla scarsa mobilità della donna dovuta alla sua condizione e dal sovrappeso in un contesto di macchia boschiva controllando anche casolari abbandonati e luoghi dove avrebbe potuto trovare riparo per queste nottate passate alla viaggio I carabinieri di Marotta hanno tratto in arresto un 27enne albanese del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti I militari nella tarda serata di ieri mentre erano impegnati sul lungomare di Marotta nei controlli sul rispetto delle misure di contenimento del contagio hanno notato una Renault Megane effettuare una manovra repentina e inusuale I militari si sono posti subito all'inseguimento del mezzo e sono riusciti a fermarlo poco dopo A bordo c'erano due ragazzi albanesi tra loro cugini che mostravano da subito uno strano nervosismo Durante la perquisizione è stato trovato sotto il tappetino posteriore del mezzo di proprietà in uso del 27enne 20 grammi di stupefacenti del tipo cocaina mentre nella disponibilità del passeggero c'erano alcune dosi di marijuana La successiva perquisizione domiciliare presso l'abitazione del 27enne ha permesso ai militari di rinvenire del materiale per il confezionamento dello stupefacente e un ingente quantitativo di contante che poi è stato sottoposto a sequestro in quanto ritenuto provento di spaccio Il giovane 27enne è stato arrestato e portato nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro Multe e carenze di parcheggi stanno mettendo in difficoltà gli operatori balneari a Ponte Sasso di Fano Oggi il presidente di Oasi Confartigianato ha proposto al comune un cambiamento in via Cappellini sul lungomare per cercare di ricavare più parcheggi La stagione estiva è partita in ritardo a causa del covid-19 Nonostante le spiagge siano accessibili da fine maggio la ripartenza è ancora a relento a causa di timori enorme rigide da rispettare Oltre a questo le multe elevate e anche lo scorso fine settimana stanno mettendo in difficoltà bagnanti e operatori balneari in particolare nella zona sud della città di Fano Infatti ogni anno si ripropone il problema della mancanza di parcheggi Per il Lido la presidente di Confcommercio Barbara Marcolini aveva chiesto nei giorni scorsi di riaprire il parcheggio dell'ex hotel Vittoria ad oggi ancora chiuso Con una stagione piena di dubbi per una ripresa economica che non si sa se ci sarà e a rischio per il settore del turismo tra i più colpiti dalla crisi per la Confcommercio non si possono dilatare i tempi per trovare un accordo con la proprietà che doveva essere già stato sancito La mancanza di posti auto, d'altra parte, spinge residenti e turisti a parcheggiare in divieto di sosta come in via Ammiraglio Cappellini sul lungomare di Ponte Sasso Per ovviare al problema il presidente di Osi, confartigianato, propone al comune una soluzione È un problema che si ripete tutte le state Quest'anno forse lo sentiamo ancora di più proprio perché veniamo da questa situazione che è già drammatica in sé per sé e quindi ogni volta che vengono colpiti i turisti, tutte queste persone che si stanno anche un po' in maniera timorosa muovendo se li andiamo a penalizzare o a colpire in questa maniera qui andiamo un po' a rischiare di bloccare i flussi che oggi invece ci servono e dobbiamo dare tranquillità anche alle persone sotto questo punto di vista è logico che non possiamo fare una colpa ai vigili perché comunque sia loro fanno il loro lavoro e molto spesso vengono chiamati per andare a vedere queste situazioni che a volte vengono anche esasperate quando vengono comunicate Quello che noi chiediamo oggi è di trovare una soluzione con l'amministrazione in questo tratto di litorale nella zona sud dove c'è una pista pedonale che io dico che è una pseudo pista pedonale perché così come oggi non è neanche fruibile diciamo camminando a piedi proprio perché è molto rischioso passarci in quella situazione in cui è quindi dobbiamo trovare una soluzione o la mettiamo in sicurezza in modo che diventa una pista pedonale e quindi diventa un servizio oppure dobbiamo trovare un modo per poter togliere il divieto di sosta che oggi c'è e quindi che sta facendo prendere diciamo le multe, i verbali alla gente e quindi ci facciamo parcheggiare le macchine insomma troviamo una soluzione in questo senso Si è spento all'età di 93 anni Luciano Eusebi storico concessionario Ford della città di Fano Eusebi che aprì la prima officina nel 1958 è stato descritto dai collaboratori come un uomo dalla grande umiltà senso del lavoro e della famiglia non ha fondato solo la sua azienda si legge in un post pubblicato su Facebook ma è riuscito ad infondere in tutti noi la passione per il nostro lavoro lo ricorderemo sempre così un grande uomo che ha sempre avuto una parola d'amore per i suoi dipendenti e spero che il nostro affetto ora arrivi a lui il funerale di Eusebi verrà celebrato domani mattina alle ore 9 nella chiesa dei Santi Pietro e Andrea a Finili di Fano la salma dopo il rito funebre verrà tumulata nel cimitero di Sant'Andrea in Villis e adesso andiamo a Pesaro dove il comune insieme ai presidenti dei quartieri e alle associazioni combattentistiche hanno di nuovo deposto una corona dall'oro al monumento della resistenza e sì perché qualche settimana fa era stata oggetto di atti vandalici posizionata nuovamente la corona in memoria dei caduti al monumento alla resistenza dopo l'atto vandalico dello scorso 2 giugno il comune di Pesaro insieme ai presidenti dei quartieri hanno restituito alla città il simbolo della memoria questa è voluto essere la dimostrazione che noi siamo presenti che noi siamo persone, consigli, consiglieri che hanno a cuore l'interesse del singolo e l'interesse del territorio l'abbiamo dimostrato qui oggi con un gesto simbolico insieme anche alle autorità un messaggio collettivo che parte dal basso, dai quartieri e arriva sicuramente a chi poi insieme a noi può aiutare a far crescere la nostra comunità Durante la deposizione erano presenti i rappresentanti delle associazioni combattentistiche Dharma l'assessore Emila della Dora, il sindaco il presidente del consiglio comunale Perugini il consigliere regionale Biancani il presidente Ampi Pesaro E' stata una bellissima iniziativa quella dei presidenti dei quartieri perché sta a significare proprio l'attenzione che il territorio rivolge verso quelli che sono luoghi fondamentali luoghi che creano la memoria collettiva in cui tutti si riconoscono tutti ripetiamo costantemente i principi e i valori ma questi bisogna difenderli bisogna in qualche modo sostenerli costantemente la città ha dimostrato anche in questo momento difficilissimo di reagire in maniera solidale in maniera forte quindi non sono questi gesti che possono incrinare la stabilità, la forza che una comunità può dare e che può rivolgere appunto verso principi fondamentali un grande segnale di maturità dei quartieri che hanno subito reagito allo sfregio ha osservato Matteo Ricci e la risposta migliore agli ignoranti e ai violenti anche ieri abbiamo visto altri episodi a Roma e al Circo Massimo purtroppo i germi dell'intolleranza e del neofascismo sono ancora presenti in una parte della società noi non ci volteremo mai dall'altra parte commenta non l'abbiamo fatto quando hanno imbrattato con le svastiche l'insegna della scuola intitolata da Anna Frank non l'abbiamo fatto neanche questa volta saremo sempre in prima linea a combattere contro l'odio Io non scarico assolutamente nulla così il segretario federale della Lega Matteo Salvini ha commentato l'avvio della sperimentazione dell'app Immuni in quattro regioni italiane tra cui anche la nostra Le Marche al termine della visita all'associazione La Lega del Filodoro a Osimo in Ancona gli italiani, ha aggiunto Salvini chiedono garanzia totale nella gestione e tutela dei loro dati e fino a quando non ci sarà questa garanzia io non scarico nulla Dopo Osimo è stata la volta di Fermo dove a Lido Trearchi Salvini è stato accolto da un bagno di folla Sentiamo Vediamo di portare i compiti a casa l'abbiamo detto ai volontari della Lega del Filodoro al decreto che c'è in discussione porteremo come emendamenti il riconoscimento della lingua dei segni per aiutare i sordi ed aiuti economici a tutti i bimbi e sono tanti purtroppo che sono sia sordi che ciechi che disabili al settore della calzatura che in questa zona ha il suo cuore chiederemo un contributo anche per le giacenze di magazzino perché ci sono magazzini pieni di scarpi e ci sono centinaia di operai in cassa integrazione cassa integrazione peraltro anticipata dagli imprenditori non dallo Stato e quindi vedremo di aiutare sia gli imprenditori che i lavoratori poi la prossima volta magari vediamo veniamo di tornarci con qualche commerciante qualche residente per bene in più e qualche spacciatore in meno sono testone e me lo prendo come impegno come all'hotel house di Porto Recanati vediamo di riuscire a fare pulizia in bocca al lupo e viva le marche grazie a voi per quello che farete e quest'anno niente rito dei saluti dell'ultimo giorno di scuola quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria gli studenti si sono dovuti accontentare di farsi un saluto attraverso le chat o comunque a distanza per questo il sindaco di Fano Massimo Seri lancia adesso un'idea quella di fare una festa per festeggiare appunto tutti l'ultimo giorno di scuola con tutti gli studenti della città in piazza 20 settembre sentiamo tutto rimandato a settembre l'ultimo giorno di scuola non è stato in classe perché il comitato tecnico scientifico aveva bocciato la proposta di mandare i ragazzi in aula per chiudere l'anno scolastico dopo tre mesi di didattica a distanza il parere negativo è derivato dalle difficoltà nel gestire il distanziamento sociale tra gli alunni così i tradizionali saluti di fine anno non sono stati diversi dal solito ancora una volta virtuali come le lezioni online di questi ultimi mesi ma per rimediare all'allontananza forzata il sindaco di Fano Massimo Seri sta pensando ad un evento a fine giugno insieme a tutti gli studenti covid permettendo questo periodo hanno dimostrato grande responsabilità grande senso del sacrificio perché sono quelli che hanno pagato forse il prezzo più alto sono quelli rimasti più a casa veramente anche rispetto agli altri quelli che avevano meno ragioni per poter scuse per poter uscire quindi come tutti i fini anno ci si ritrovava con i ragazzi lo siamo stati anche noi studenti magari con la cena di fine anno momenti di saluti in particolare quando si concludeva un corso quindi dopo gli esami o di stato quelli delle medie superiori o quelli di terza media e quest'anno purtroppo non è stato possibile allora gli esami sono in corso e ho lanciato quest'idea che niente di originale anche altre realtà lo fanno al termine degli esami mettere a disposizione la possibilità e degli spazi per potersi rivedere e salutare ovviamente questo deve essere accolto dai ragazzi e dalle scuole noi siamo pronti perché siamo stati anche noi studenti e quelli sono momenti indelebili che ci porteremo dietro per tutta la nostra vita ancora da decidere date e luogo ma si sta pensando ad un posto all'aperto come nel centro storico di Fano intanto il sindaco e l'assessore alle politiche educative Samuele Mascarin stanno lavorando al progetto e a breve sveleranno tutti i dettagli dell'iniziativa dico grazie a tutti i ragazzi per gli sforzi e i sacrifici che hanno fatto faccio tanti auguri ai ragazzi che in questi giorni sostengono gli esami e donna rivederci per questo appuntamento di saluto con tutti i ragazzi a cominciare dai maturanti e restiamo a Fano perché questa mattina è stata recintata l'area dei giochi del Parco Luciano Polverari siamo nella zona dell'ex campo d'aviazione la ditta Dea Costruzione interverrà per ripristinare la parte danneggiata della pavimentazione in gomma della collinetta realizzata lo scorso anno e l'intervento che è stato programmato da tempo non è stato realizzato durante i mesi invernali poiché le temperature non garantivano la posa idonea del materiale l'intervento durerà due giorni ma per tutta la settimana successiva sarà mantenuta la recinzione in modo da evitare che si calpesti il colato ancora fresco e adesso invece parliamo di viabilità perché è stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo ponte sul fiume Metauro quello che snellisce sicuramente la viabilità sulla statale 16 ce ne eravamo ovviamente anche noi vediamo è stato inaugurato sabato mattina con il classico taglio del nastro alla presenza delle massime autorità cittadine delle forze dell'ordine il nuovo ponte sul fiume Metauro l'infrastruttura realizzata da autostrade per l'Italia nell'ambito del piano di opere connesse all'allargamento a tre corsie dell'autostrada A14 nel tratto tra Cattolica Fano e Fano Senigallia le attività di completamento del ponte dopo una breve interruzione sono andate avanti anche nella fase di emergenza sanitaria generata dal covid-19 grazie all'attuazione di un protocollo di sicurezza che ha consentito di rispettare la data prevista di fine lavori oltre al ponte è stata aperta al traffico anche la bretella di tre chilometri che unisce la provinciale 16 all'aeroporto di Fano l'opera d'arte che è costituita da questo ponte è un'opera dal punto di vista ingegneristico molto importante è lunga 380 metri ha 11 setti 11 impalcati è larga 11 metri 50 e poi alla fine la strada effettivamente con le sicurezze e tutto quanto sarà larga 10 metri 50 e quindi è un'attività dal punto di vista ingegneristico molto importante non è cosa di tutti i giorni assistere all'inaugurazione di un ponte che oltre a rappresentare una vera sfida ingegneristica ha anche un alto valore simbolico un ponte unisce due parti e supera gli ostacoli naturali questo ponte consentirà quindi alla zona sud di Fano di avere un collegamento più rapido col nucleo cittadino e ai san costanzesi di avere una viabilità migliore sulla direttrice adriatica san costanzi più vicina questa importante opera strategica è particolarmente importante per i miei concittadini la maggior parte dei quali lavora tra Fano e Pesaro quindi questa opera è fortemente voluta e aspettata da tanti anni ed è un piacere sapere che è stata inaugurata prima del tempo cosa più unica che rara dopo questo taglio di nastro manca l'ultimo segmento quello dell'aeroporto per vedere completata una delle più importanti infrastrutture della città di Fano dal costo complessivo di oltre 50 milioni di euro una grande soddisfazione è un'altra opera che si unisce a tante altre che abbiamo realizzato in questi anni quindi per un sindaco è veramente un giorno di orgoglio e di soddisfazione per aver raggiunto un altro obiettivo ma soprattutto per rendere una città migliore dove la qualità della vita migliora e dove le infrastrutture crescono e a proposito di lavori stradali ricorderete senz'altro le polemiche che hanno preceduto questa inaugurazione polemiche soprattutto legate al fatto che Anas quest'anno ha deciso di fare questi lavori a ridosso della stagione estiva ed è per questo che il vice presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche Renato Claudio Minardi ha presentato una interrogazione urgente in regione per far sì che si coordinino meglio d'ora in poi i lavori tra Anas e la regione Sì ho fatto un'interrogazione urgente un question time che sarà discusso martedì in consiglio regionale perché è francamente impossibile immaginare che si facciano i lavori su grandi arterie di comunicazione che sono legate anche al turismo durante il periodo estivo i lavori che si stanno facendo sulla Fano Grosseto farà Fossombrone il furlo ed anche i lavori sulla verifica statica del ponte sul fiume Metauro sulla statale 16 alle porte di Fano ovviamente sono un problema non solo per i cittadini che si muovono dalla costa all'entroterra e da nord a sud ogni giorno ma sono un problema soprattutto nel fine settimana ovviamente questo è inaccettabile a mio avviso peraltro ci sono stati oltre 80 giorni di lockdown questi lavori probabilmente si potevano fare nel periodo di chiusura quando tutti i cittadini erano a casa ecco oggi noi viviamo una situazione particolarmente complessa dopo il periodo di lockdown il settore del turismo sta facendo ogni possibile sforzo per ripartire anche con il sostegno della regione ed ovviamente non possiamo immaginare che questi lavori creino dei disagi peraltro per i cittadini che vengono prevalentemente dall'Umbria Fano Torrete e Marotta si rischia di farli passare sulla quadrilatero fargli percorrere la quadrilatero e quindi arrivare direttamente a Civitanova e quindi portare fuori zona completamente i cittadini i turisti umbri quindi ovviamente l'interrogazione ha come scopo quello di sospendere i lavori o quantomeno lasciare le corsie libere nel fine settimana sia per quello che riguarda il ponte sul fiume Metauro che sulla Fano sulla Fano Grosseto ovviamente è una scelta importante dipende dall'ANAS non dipende dalla regione ma la regione su ANAS ha ovviamente una capacità di incidere importante e questo era il nostro ultimo servizio in scaletta il telegiornale dunque si chiude qui grazie per averci seguito restate con noi sul canale 17 perché tra poco subito dopo la pubblicità saremo di nuovo in diretta e con Simona Zunghetti ci sarà il sindaco di Colle del Metauro Stefano Aguzzi quindi primo cittadino grazie per averci seguito ci vediamo domani mattina alle 7 con occhio ai giornali e alla rassegna stampa grazie per aver guardato